Salve a tutti ragazzi bentornati in una nuova parte di Crash Team Racing Oggi andremo finalmente a completare il quarto mondo con Laboratorio Engine Iniziamo subito con la sfida CTR che tra l'altro è l'ultima sfida di questo tipo nel gioco Quindi preparatevi a salutare quelle adorabili letterine perché non le rivedremo più Almeno fino a Crash Nitro Kart anche se ci saranno C, N e K Allora ovviamente anche questa è una pista abbastanza lunga ma non quanto quelle che abbiamo affrontato nello scorso video Quindi dopo aver preso il gettone e speriamo in bene anche la reliquia di questo livello Oh cazzo, mamma che culo! Ho grattato la parte inferiore della macchina, del kart Dicevo dopo aver fatto questo livello potremmo dedicarci alla valle delle gemme con le due piste bonus E i cinque tornei Che credo ci prenderanno come minimo due o tre video E poi potremmo fare il boss e tutte le altre cose da fare nella modalità di giocatore singolo Oh cazzo! Meno male che c'avevo quella TNT A volte sono utile però, bisogna dirlo A volte, ma non sempre Bene, primo giro abbiamo già preso tutte le lettere Quindi adesso non dobbiamo fare altro che finire la corsa senza troppe complicazioni Sì però, ma come mai Coco? La vedo troppo forte oggi Cioè, prima era più veloce di me E in teoria dovrebbe essere molto più lenta Secondo me ha taroccato la macchina prima di iniziare Che dico macchina? Sono dei kart, le macchine sono ben diverse Di certo in una macchina non sporge la tua testa al di fuori di essa E soprattutto la macchina ha il tettino Oh, finalmente ho colpito qualcuno con una nitro Ma non 70.000 anni dopo averla lanciata, ma subito dopo Bene, bene Oh, questa serie di salti con queste rampe disposte in cerchio La vedremo anche in crash intro kart nella pista assemblaggio Niente, mi sembrava una cosa interessante da dire Più o meno Sì, ok, però mi sono troppo dietro a questi coglioni Non mi piace sto fatto Non vorrei che mi stiano conservando una bella sorpresa per la fine della corsa No, pura, pura, per favore Vai via pure tu, dove sta? È un po' più lontano rispetto a prima Meno male Quanto è bella sta sezione con il turbo Però non ho mai capito se serve a qualcosa fare turbo spinta Credo di no, infatti Non ho notato alcun aumento di velocità Vabbè, dopo tutto come potete vedere Quando andiamo su turbo la velocità è al massimo Fanculo Anche se mi pare che possiamo portarla anche oltre il limite Ma che cazzo? Ma per chi non la smetto di lanciare le TNT nei posti dove vado soltanto io? Oh, andiamo se riesco a prendere Cazzo, cazzo, cazzo No, no, non dimmi che ho perso Non dimmi che ho perso Per favore, non dimmi che ho perso Vai a prendere quella pozione Sì, che culo Meno male Non so neanche chi l'ha lasciata Ma sicuramente non io Perché dove io lascio le pozioni Quei coglioni non vanno mai Mamma mia, stavo per fare una stronzata con quella scorciatoia E poi non è neanche una scorciatoia È soltanto un modo alternativo di Attraversare quel burrone Wow Beh, diciamo che l'ultimo oggettone del gioco è stato molto emozionante Meglio di niente, almeno l'ho preso Poi che me ne frega Adesso la reliquia Che sarà molto difficile Perché ovviamente tutte Le cose che riguardano engine Sono troppo sofisticate E alto livello Basti pensare a tutti i boss Di engine Che hanno 70.000 attacche della vita E 37 fasi Quindi ovviamente La reliquia del suo livello Sarà molto difficile Vi ho già detto all'inizio del gioco Che rispetto agli altri In questo le reliquie non sono Molto difficili Però è ovviamente un aspetto relativo Perché in senso assoluto Le reliquie sono sempre difficili Ve lo posso assicurare Non credo ci sia Un gioco in cui le reliquie siano facili Di per sé Ma ho giusto i primi livelli di questo gioco forse Beh, nei primi livelli sono facili in quasi tutti Soltanto in N3 No E anche in XS Come abbiamo già potuto vedere Purtroppo Cioè guardate lì 70 casse Mi pare una cosa normale Eh, avevo già detto che Essendo il livello di engine C'era da aspettarsi questo e altro Vediamo se allora la prendo Oh yeah Tanto quelle casse lì Possiamo prendere nei prossimi due giri Quindi Non è un problema Prima abbiamo potuto vedere che Prima del traguardo Ci sono 70.000 Casse da 3 Vediamo se riesco a prenderle Eh, mannaggia Che merda che ho fatto Non sarei mai dovuto cadere Perché Il tempo di stare lì Quei 53 secondi Già sono a 20 Mannaggia Secondo me Con quel salto Ho perso tutto quanto Dannazione Ma se ne sono sicuro Perché sto continuando Perché in me c'è una piccola speranza Che riesco a prenderla Dopo tutto Oh Gesù Ecco Dopo avesse fatto sta cosa Sicuro non la prendo A 100% Dannazione Tripla dannazione Quadrupla dannazione Tipo i livelli del Kaioken Arrivo fino al 20 E poi mi fermo È inutile passare qui in mezzo Non ci sono neanche casse Madonna ste curve Sono troppo problematiche Con Crash Perfetto Fino a un certo punto Perché non dà un po' di merda questo Secondo me è una L'ho lisciata pure Vabbè Come ho già detto Non è un problema Per ora Non sarà la fine Eh però 53 secondi Secondo me sono Troppo pochi Cioè mamma mia Sono già a 36 Guardate là Certo ora ho preso Tutte quelle Vaffanculo Lo sapevo Che dovevo Riavviarla subito Sta cosa Mannaggia 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 Che palle però Volevo farla subito Subito Sta reliquia Così potevo Concentrarmi Ai livelli Sì col cazzo Proprio Proprio Perfetto Adesso vado addirittura Oltre le casse Prima L'ho mancata Andandoci sotto Sto gioco Mi piglia per il culo Lo fa apposta Ah la stavo saltando Un'altra volta Ma che cazzo è Cosa è Crash Ieri non sei andato A fare la tua serata Di lavoro Sei molto più Pimbante Del solito Che basta Con queste allusioni A professioni Non esattamente Legali No veramente 53 secondi Un tempo Molto difficile Soprattutto se Vi vado a spattere Come un idiota Non ho alcun Margine D'errore Qui Quindi se Dovessi mancare Qualche cassa Non è che Mi posso mettere A fare il coglione Fermandomi E prendendole Nel giro dopo Dai dai Ecco Questo mi fa Guadagnare un po' Di tempo Quindi Meno male Sono riuscito a farlo Ma io sapevo Di aver perso Quella reliquia Già quando sono caduto Qui prima Perché ho continuato Mannancia a me Vabbè però All'ultimo giro Sicuramente Mi devo fermare Per prendere Quelle cassa da 3 Non è che Riesco Riuscirò a prenderle tutte Assolutamente Tutte in velocità Si intende Devo cercare Di mantenere Il tempo Più basso possibile Devo andare Sempre a velocità massima Sennò sta reliquia Non si prende Amici Purtroppo è così L'ultima reliquia Dei livelli normali Giustamente La più difficile Mi pare giusto Lo dobbiamo sempre Concludere Alla grande Così è stato il gettone Così è stata O meglio Così sarà la reliquia Spero Mannaggia L'ultimo giro Per prendere Quella cassa lì Nell'angolo Sarà un po' difficile Mamma mia Inutile fare Turbo scivolate Sennò Oh cazzo La prendiamo La mostra Cassa Così in ultimo giro Questa sezione La posso fare Velocemente Vediamo come L'ho lasciata L'ho lasciata Tutte quelle centrali Sarà molto difficile Prenderle Tutte insieme Ah Meno male No perché Se la mancavo pure Stavolta Me ne andavo Cioè È incredibile Quante volte Che riesco a fare Gli stessi errori Cioè Siamo già a dieci minuti Mannaggia Chissà se riuscirò a fare Entrambe le reliquie Dei livelli speciali Ah no Ma che cavolo sto dicendo Una di quelle Si sblocca con tutte le gemme Quindi ne possiamo fare Soltanto una Vabbè Un problema in meno Che balle però Ok Qui devo farla Per forza sta cosa Immaginate che bello Se fossi caduto Proprio Il colmo Qui non c'è più niente Non c'è più niente Mancano soltanto Quelle casse Alla fine Ma perché ne sono 65 Io prima ne ho contate 4 Ok Ah no no Sono 5 Sono 5 Oh yeah Ce l'ho fatta Oh mio dio Ce l'ho fatta Per 7 centesimi Mamma Grazie 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 di cuore Veramente Per avermi regalato Questa gioia finale Non l'avrei Sognato neanche Nei Nei sogni più belli Wow Wow 7 centesimi Amici 7 centesimi No Questa è una cosa Da raccontare ai miei figli Questa Questo è l'apice Di tutto Il wolf room Ve lo dico da adesso D'ora in poi Non riuscirò a fare Una cosa epica Come questa Ok Quindi Ce ne possiamo andare Da questo mondo Purtroppo È un bel mondo Dopodutto Però Non è che possiamo Essere legati A queste cose Ora ovviamente 70 anni Per ritornare Alla vale Delle gemme Come è giusto Che sia Un'ora che ci penso Forse Qui è meglio Andarcene Direttamente Per il primo mondo Così Ci arriviamo Subito 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 Scusa Per poter ritornare Nel primo mondo Lo adoro troppo Soprattutto la musica Credo sia la migliore Di tutte quante Addio primo mondo È stato bello Eccolo qui Vediamo qual è Colosseo mobile Questa Credo sia Una reliquia Difficile Perché la pista La conosco È senza Alcun turbo È molto lineare Non c'è neanche Appunto Non c'è neanche Un burrone Probabilmente L'unica pista Realistica Di tutto il gioco Musica La stessa Dell'arena di Tiny E qui dovremmo Fare molto oltre Questi salti Delle curve Cioè andando Al di sopra Di queste gomme Guardate lì per esempio Beh pensiamoci dopo Ovviamente Il tempo di questa reliquia Non l'ho visto Mi sono concentrato troppo Sul laboratorio di Engine Sono ancora troppo contento Per aver Veso la reliquia Con 7 centesimi Veramente 7 centesimi amici Sono convinto Che me ne pendirò In seguito Ora la perderò Questa con 7 centesimi Quando ci scommettete No perché Se dovessi farlo Io non la taglio Con la parte Sarebbe troppo Epico Sarebbe bruttissimo Per me Ma sarebbe epico E con la cassa Potevo anche non lisciarla Però Anche Se non ci sono Di turbo Questa è una pista Molto veloce Perché Si può tagliare Molto facilmente Anzi Addirittura Il gioco Che ce lo richiede Guardate qui Guardate qui Che merda Che ho fatto Ovviamente Ovviamente Me la sono lasciata Per l'ultimo giro Con la cassa Proprio Alla grande Alla grandissima L'ho sempre fatto bene Quest'alta Adesso no Tra l'altro Questa è una di quelle piste Che facevo Sempre Ne tornei Quando ero piccolo E mi chiedevo Dove fosse Nel Nei mondi principali Perché non l'avevo mai Incontrata Vabbè questo valeva anche Per le piste del terzo E del quarto mondo Ok quindi Ultimo giro Ti prego Dimmi che È facile Stare lì Perché veramente Non potrei sopportare Di Prendere una reliquia d'oro Lancia Ora arriva Il difficile Perché cazzo Qui ci sono due cazzo Come ho fatto Prima a mancarle Oddio Crash Però come sterzi male E qui c'è la dolenda Magari la riesco a prendere O lì lei Che cazzo ho detto Era un misto Fra un oh yeah E un olé Ma anche qui Ma che è un vizio Fatto dappertutto Che vergogna Queste cinque casse Le riesco a prendere In modo decente Ma pensavo Che pure queste Me le ero tirate scordate Qua Meno male Erano allineate Un tempo Un po' di merda Sinceramente Non è che io abbia Questa quante speranze Soprattutto è un tempo Che si avvicina troppo A quello di zaffiro O zaffiro Non ho mai capito Come si pronuncia Speriamo in bene Incrociamo le dita Ed è platino Che cazzo di tempo Di merda è La reliquia di platino Non è 40 Ma serio fai Io che mi stavo pure preoccupando E ora c'è Un problema Perché siamo a 15 minuti Ma non è che mi posso Mettere a fare un torneo Sono troppo lunghi Nuovo punteggio Max Eh non so proprio Come devo Gestire questa situazione Passa la mappa Comunque C'è da notare Che ora manca Soltanto una reliquia Amici Una reliquia Alla fine Del gioco Più 5 gemme Però è ovvio Che se prendiamo 5 gemme Cioè è ovvio Che per prendere quella reliquia Ci servono le 5 gemme Andiamoci a fare Un giretto qua Questo portone Dobbiamo ancora aprirlo Tra l'altro Ma che serve aprirlo Con due chiavi Neanche potevamo affrontarlo Prima Andiamoci a fare Un giretto Allora Gemma rossa Gemma verde Gemma blu Gemma gialla Gemma viola Questa Questo è il torneo Con i boss Perché ovviamente Questi 4 Qui sono I 4 oggettoni Che prendiamo Nelle piste normali Questi invece Sono quelle Delle arene Quindi Era ovvio Che fossero Un po' speciali No? Beh io credo Che sia Improbabile Riuscire a fare Un torneo Quindi direi Di finirla qui Anche se è un video Molto più corto Del solito Però Questa Mi ha Così mi ha Costretto a fare il gioco Quindi siamo arrivati Al 92% Ma mancano Soltanto 5 gemme Una reliquia E il boss finale Quindi Da Gian Gino Androte è tutto Spero che questo video Sia piaciuto Ciao 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 Ciao